Buongiorno, stamattina c'è particolarmente freddo, infatti c'è appena che mi sono svegliato stanotte perché avevo lasciato la finestra aperta e quindi ero lì tipo che cretino e quindi adesso tra un po' devo uscire però non ho particolarmente voglia, infatti uscirò con un sacco di felpe, parlando di cose serie oggi facciamo di nuovo, c'è scritto pesca frullata, succo alla pera e infine la limonata che abbiamo fatto ieri, devo anche capire a pranzo cosa voglio cucinarmi perché stavolta bisogna cucinare, sarà una settimana che non mangio la pasta effettivamente, anche se data sera mi sono mangiato pizza, ieri sera sono uscito con la mia amica e siamo andati a mangiare pizza, a 18 anni mi sono fatto un viaggio di 12.000 miglia, mi sono girato tutta l'America essenzialmente in un mese e in quel mese lì mangiavo quasi tutti i giorni a McDonald's, Burger King, fast food in generale, non ero ingrassato più di tanto perché comunque mi tenevo abbastanza allenato all'epoca e poi quando si ha 18 anni c'è cosa vuoi ingrassare, è possibile, poi ho il metabolismo di uno scoiattolo quindi anche volendo, cioè per ingrassare devo veramente ingozzarmi, poi tengo uno stile di vita abbastanza sano, cioè no non mangio verdure, quello me ne rendo conto che non sia tra le scelte migliori di questa vita, però le mie passeggiate me le faccio, sono abbastanza variegato con il cibo e ho anche botta di culo col metabolismo, però con l'esperienza lì mi ha fatto capire di quanto facesse schifo il fast food, cioè adesso di rado una cosa che non riesco a rinunciare o meglio che posso benissimo rinunciare ma che apprezzo quando c'è sono le patatine al McDonald's, lì mi rendo conto che è una mia debolezza ma quando ci sono, cioè le voglio, le voglio e però in generale mi sono fortunato, che cazzo che è, un gissetto, ecco appunto mi hanno lasciato la finestra aperta, sono entrati i demoni, cretino io che, uh, presa, uccisa, cioè adesso che mi faccio le bibite e le cose estive è venuto un nuvolazzo orribile, spesa perché sennò non mangio niente e c'è questo tempo schifoso, mi sento un po' in vena di farmi una matriciana, bella piccante, però vediamo se trovo il guanciale, se no mi tocca usare la pancetta ragazzi, sempre così la situa. A Cileni mi sono anche dimenticato di scongelare uno dei panini, quindi mi sa che è la prima cosa che faccio appena torno a casa. Voglio ripigliare un po' di pomodori, vediamo anche questi qua che sono più piccolini, tanto godo. Allora alla fine sì ho trovato anche il guanciale e ho preso anche le robe per fare una piadina, spesa dei pomodori, formaggio, un po' di tutto, per dire la verità. Quindi oggi adesso mi vado a cucinare la pasta e stasera magari facciamo le piadine o sennò domani. Innanzitutto prima mettiamo la spesa in frizz, queste sono una bomba ragazzi, se dovete piare le patatine sempre e con, che cos'hanno queste? La pepe rosa e lime, pazzesche. Anche quella è il pomodoro molto buone, ovviamente. E allora, piadine, rucola, guanciale, formaggio, stracchino. Ora mettiamo in frizz, intanto, pomodori e pomodori di nuovo. Tra i due mi prendo questi tasti qui. Mettiamo lo scalogno prima di tutto. Qua in questi casi come ricetta potrete anche usare la cipolla ovviamente. Io uso lo scalogno perché lo scalogno. In primis dobbiamo togliere la pellicina, tutte le parti in eccesso e poi iniziate a tagliare lo scalogno in fettine piccole piccole piccole. Quindi anche rondelline. Dopo da lì ne andiamo a sminuzzare ancora di più. Simile a come abbiamo fatto il risotto alla fine, non cambia più di tanto il processo. Tiobo! A posto. Non seguite del tutto i miei consigli in cucina, anche perché non sono uno chef. Devo solo sopravvivere. Senza mangiare cose già fatte, ecco. Cioè, sopravvivere ma con un minimo di classe. Partiamo, ci mettiamo un pochino del nostro olio bio, nello scalogno. Ci andiamo con le luci, se no non si vede niente. Poi ci prendiamo dal nostro guanciale, le petele di guanciale. Poi la polpa di pomodoro. Non so se farne un... Beh dai, li faccio tutti e due a sto punto. Così poi, come sapete voi, avanza e posso usarlo anche magari me lo mangio domani a cena. Non dimenticatevi di pulire sempre il passaggio quando avete tempi vuoti e morti. Adesso ci beviamo un po' della nostra bordaglia che abbiamo fatto ieri. Eh, ci sta. Ci sta, è proprio buona. Ok. Allora, più o meno quando siamo così, iniziamo a mettere pure i nostri petali sopra. Che poi loro perderanno un sacco di grasso. Adesso è da un minutino che ho messo anche il peperoncino, quindi lui si sta, si sta scaldando. Vediamo un po' come reagisce. E una cosa che devo fare ora, che di solito mi dimentico sempre, è lavarmi le mani dopo aver tagliato il peperoncino. Perché io ho l'abitudine di toccarmi gli occhi e voglio evitare di scottarmi, bruciarmi, anche perché poi io piango. E non è un bello spettacolo, quindi laviamoci le mani. Qua c'è un sacco di grasso, c'è un sacco di unto. Vi faccio vedere. Sta andando per bene. Noi adesso andremo a mettere la polpa di pomodoro. Fantastico. Possiamo anche abbassare il fuoco. Ora dobbiamo mescolare, poi mettere il coperchio e lasciamo pure a fuoco basso. Ancora mai il suo l'ha fatto. Adesso mettiamo il coperchio in fuoco basso, così anche la polpa si va a scaldare e il gusto diventa eccezionale. Allora, io sono un grande amante degli spaghetti. E niente, quindi prendiamo spaghetti. Semplicemente. Prepariamo già anche il sale. Non so perché sto andando in giro con gli spaghetti in mano. Posso benissimo togliere e appoggiarli. E' proprio buono. Cioè, mi rendono conto che ha lo zucchero ma... E' proprio buono. Ah, nel frattempo stiamo facendo anche scongelare uno di quei panini di Too Good To Go del panificio. Che dopo ovviamente devi fare la scarpetta. Anche perché essendo pasta lunga non è che ha così tanti poli per andare ad infilare il sugo. Io tipo un mese fa ho ripitturato qua e ho cambiato anche la cappa, ho messo questa qua. Solo che è bella grande perché comunque siamo 90 cm di pianale. Il problema è che è molto rumorosa e quindi questo è il volume più basso. Prendi gli spaghetti per strada. Infizzati. Devo andare assolutamente a buttare la plastica perché c'è il sacchetto pieno. E il problema è che quando c'è il sacchetto pieno io sono pigro e tendo a schiacciare sotto. Ma schiacciando mi becco sempre tipo i pezzi di lamiera, i pezzi di tipo il tonno così e mi taglio 100%. Ho un sacco di tagli alle mani per questo. Devo mettere assolutamente le zanzariere. È uno dei prossimi progettini perché se no mi entra il Jumanji qua dentro. Allora io adesso ho solo la mano libera ma tanto entusiasmo quindi vediamo di farcela. Una di queste sere volevo fare anche pasta fresca quindi potrebbe essere già mercoledì sera. Tagliatelle oppure bigoli insomma queste cose qua. Ah e devo anche fare il ragù perché l'ho finito. Di solito mi faccio un pentone di ragù e riempio dei bicchierini in plastica e metto in freezer. Quindi quando mi serve una porzione sguinzaglio uno di questi bicchierini e ci siamo. Però devo andare dal fruttivendolo a prendere le carote, il sedano e le cipolle e queste robe qua. Perché se vado tipo in un supermercato ti vendono i blocchi così. O che cazzo me ne faccio di due chili di sedano. Assolutamente niente. A volte ti può essere lunga o rossetto. Vendono anche dei kit per fare il brodo o il ragù. Tipo tre carote, due sedani, sedanini, cose così. E sono perfetti perché la porzione è perfetta se volessi fare tipo un chilo di carne. E solo che devo essere fortunato a beccare il periodo giusto. Quindi a sto punto vado al fruttivendolo così mi prendo io individualmente le varie porzioni. Questo va senza problemi. O ho mangiato un tocco di peperoncino intero. Oggi vorrei andare in palestra però ho un aperitivo alle 4 quindi magari vado per le 5 e mezza. Quindi dopo l'aperitivo vado direttamente in pale. Ok qua ci sono già delle foglioline che sono un po' bucate. Mi sa che è arrivato qualche insettino a fare strage dopo una settimana che c'è. Però non vedo l'umache questo è un buon segno. Vuol dire che i piccoli erano sufficienti. Possiamo anche tagliare un pochino. A striscette. Ok allora i pomodori ci sono. Mescoliamo un po' la pasta. Dopo mi tocca ripulire qua i fornelli perché è fuori uscita. Pizzettina. Me ne scaldo qualcuna. Questo non serve. Questo non serve. Boh. Una definizione di me. Se mi dovessi definire tipo in una parola direi clumsy. Cioè un po' sbranatello. Faccio cadere le cose. Sempre così. Andiamo all'assaggio. Un minuto e ci siamo. Già preparo. Musco la pasta è pronta. Potremmo tenerci anche un po' d'acqua di cottura. Anzi un po' di acqua di cottura la mettiamo direttamente qua nel sugo. Vi faccio vedere la tecnica. Così. Adesso noi scoliamo. Adesso l'ho fatta al dente la pasta. E quindi se la lasciamo un pochino cuocersi l'ultimo minutino. Mentre evapora dall'altra parte. Dopo il risultato ottimale. Anche se così facendo probabilmente. Spanderemo. Tutto. Qua. Dopo. Sarà tutto sporchissimo. Quindi vi ricordate che ieri ho pulito. Beh. Devo rifare questa roba. Questa roba la possiamo anche già portare fuori. Che come sapete io mangio fuori. Che più bello. Mi fa sentire contatto con la natura. Mi vedete ancora? Sì. Sono qua in fondo. Mamma mia su serio potevo prendere una padellina leggermente più grande. Qua è un disastro. Comunque direi che ci sono. Guardando qua. Sembra perfetta. Questa. Ah. In tutto questo. Io ho già portato i pomodori e le cose fuori. No. Quindi saranno azzannate. Da tutti gli insetti e le bestie di questo mondo. Ci saranno i merli che faranno festino. tutto il guanciale in fondo e io cosa voglio prenderlo così. Mi servirebbe una spatolina. Un cucchiaio. E vabbè. Vuol dire che la prossima porzione sarà molto juicy. No dai prendiamo qualcosina. Scusate di cosa stiamo parlando. Comunque vi faccio vedere. Allora abbiamo la matriciana che si presenta così. I pomodorini e le tartine, pizzette, quello che è. Poi ovviamente la nostra limonata. E adesso ci spariamo. Come al solito un po' di YouTube. A me fa ridere perché sta iniziando a piovere. E io ieri ho fatto la lavatrice. E ho tutte le cose stese. Che si stanno bagnando. Che ora ho spostato velocemente. Cioè io speravo un sole come negli ultimi giorni. Invece oggi che devo stendere. Chiaramente deve piovere. Cioè è normale. Quindi adesso io mi metto un pochino a editare il video di oggi. Perché ho un po' di tempo. E tra un'oretta vado a farmi una passeggiata. E poi vado a farmi direttamente l'aperitivo. E dopo l'aperitivo vado diretto in palestra. Torno. Mangio una cosa al fly. E poi devo iniziare a editare il video del lunedì. Perché come vi avevo già detto. Lavoro per un canale YouTube americano. E tutti i lunedì mi girano dei video. E mi richiedono due o tre orette. Quindi questa è la giornata di oggi alla fine. di oggi. Allora. Allora.